Torna in campo l'eccellenza, un ritorno posticipato e atteso, un ritorno col botto per qualcuno. Per altri, un ulteriore weekend fermo. A giocare la biellese, finalmente di nuovo sul palcoscenico dello stadio La Marmo Rapozzo, rispolverato per l'occasione importante. I ragazzi di Mister Rizzo, dopo aver conquistato il titolo di campioni d'inverno nel bel mezzo delle festività natalizie, tra la neve e la nebbia di Trino, sono attesi dalla partita forse più delicata della stagione. Scherzi del calendario, biellese-stresa alla prima giornata. All'andata sull'erba del Forlano e con la vista del Lago Maggiore, i bianconeri conquistarono una straordinaria vittoria per 5-1, che sembrava il preludio di un campionato in discesa. Un bel sole, un clima ancora estivo quel pomeriggio, ma il resto del girone d'andata non è stato così semplice. La classifica al giro di Boave della biellese in vetta a quota 37 punti, incalzata proprio dai blues stresiani che inseguono a 36. La differenza reti spaventosamente a favore della biellese, più 33 contro il 18 dell'ostresa, non si è però concretizzata in un vantaggio consistente. Qualche scivolone, oltre al sicuro valore degli ospiti, hanno fatto sì che in paglio, oltre ai tre punti, ci sia anche il primo posto. Attaccato in scia c'è anche l'oleggio, ma la candidatura degli arancioni novaresi non sembra altrettanto forte. All'andata, una doppietta di Varvelli e i gol di Scienza, Panatti e Canton, regalarono la vittoria, peraltro conquistata dalla biellese con un secondo tempo straripante dopo una prima frazione equilibrata nel gioco e nel punteggio. L'ostresa non è cambiato. A disposizione di mister Giorgio Rotolo c'è una squadra di qualità, reduce dalla cocente e contestata eliminazione in semifinale di Coppa, anche grazie a un gol fantasma del Borgaro. Capitan Frascoia guida un centrocampo impreziosito da Manfroni e sorretto dal reparto arretrato dove spicca Moia, proprio come per la biellese l'attacco da avere più soluzioni. Nell'ostresa ci sono l'ex Bonura e il biellese di fatto Mancuso, a completare il reparto i gol, tanti, di Jacopo Zenga, figlio d'arte del portiere Walter, e di Edoardo Secci, estroosala, danni protagonista della categoria. La Fulgor Valdengo invece non scenderà in campo contro il Borgo Vercelli. Quella che sulla carta era un'altra sfida delicata per la salvezza è stata rinviata per i soliti motivi sanitari. La speranza è che debba essere l'unica.